quindi enrico novità allora nell'anno in cui festeggiamo i 50 anni di cui siamo molto orgogliosi presentiamo la serie delle opera revo cassa veramente bella perché in un mercato dove sono tutti uguali abbiamo forzato il design abbiamo messo dentro tutte le tecnologie della della famiglia a vio amplificatore potente classiale quasi tre vie siamo veramente molto orgogliosi e riscontri veramente molto 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 buono dall'altra parte abbiamo anche questo che sempre un po nell'anno dell'anniversario diciamo così abbiamo ripreso quello che era uno dei successi di tecnologica nel passato i 50 portati in chiave moderna due subito 18 quattro volte woofer più due driver tutto attivo veramente versatile quattro casse appese due casse una fianco all'altra sistema veramente molto molto versatile siamo molto contenti di quello che sta succedendo e la risposta che abbiamo avuto il nam quest'anno ciao a tutti mi chiede di me come me